Giovedì alle 17 nell'Aula Consigliare del Palazzo Comunale il convegno e il servizio civile incontra Olevano sul Tusciano gli investimenti futuri. A spiegare le novità legate alle politiche giovanili, l'assessore delle politiche giovanili e sociali Davide Zecca. Questa giornata vuole dare un segnale sia alla comunità di Olevano di partecipare alla vita dei volontari di servizio civile e magari programmare insieme attività e progetti per il futuro, ma vuole anche essere un messaggio per gli amministratori dei comuni limitrofi che vogliono attivare nei propri comuni il servizio civile. Anche perché dal prossimo mese avremo l'accreditamento verso il servizio civile universale, quindi gli enti accreditati per il servizio civile nazionale saranno obbligati a passare al servizio civile universale con nuove normative per i volontari e nuove opportunità per coloro che parteciperanno al servizio civile. Sarà con noi il presidente di Amesci e del forum nazionale del servizio civile Enrico Maria Borrelli, sarà con noi il consigliere regionale Enzo Maraio che accoglieranno tra l'altro i nuovi volontari, saluteranno i vecchi, che mi preme ringraziare i ragazzi che hanno appena finito il 9 gennaio, che hanno fatto tante iniziative per la comunità, si sono spesi tanti per la nostra comunità, tra cui uno su tutte è Tusciano Adventure, che valorizzeremo ancora quest'anno, un percorso di trekking sul fiume Tusciano con attività dallo yoga fino al tiro con l'arco e con soft air. Per le ragazze li superiamo il rischio, dipendi da te. Venne anche il parroco Donnezio Miceli che partecipò alla manifestazione, dove si parlava di dipendenza da droga, quindi molti giovani coinvolti che hanno raccontato la loro storia, che hanno vinto contro la droga, hanno partecipato all'assistente sociale del comune, tante figure professionali dall'ASL fino al piano di zona S4, tante attività fatte in questo anno, tante in cantiere per il prossimo anno. Abbiamo un nuovo progetto, un solo leonano sul Tusciano, sul genere di meraviglia, che tende a valorizzare il nostro territorio, quindi il fiume Tusciano, la località Castello, la grotta di San Michele, quindi tante iniziative in programma, in cantiere, che partiranno già la mercoledì mattina perché i ragazzi prenderanno servizio. Visto il nuovo accreditamento verso il servizio civile universale, passeremo a 30 unità. Prossime iniziative per i giovani e per il rilancio di Olevano sul Tusciano? Stiamo ultimando lo statuto per la consulta delle politiche sociali. Mi preme ringraziare un lavoro sinergico con il segretario generale dell'ENDE, la dottoressa Luisa Marchiaro, il dottore Elmenegito Del Stefano, responsabile dell'area dell'ufficio e dell'area amministrativa. Stiamo ultimando questa consulta per le politiche sociali, un evento storico per Olevano perché la nostra azione amministrativa va ancora più a favore dei deboli e di chi ha bisogno, quindi del sociale. E in più mi preme con orgoglio di dirlo ci sarà la figura di disability manager che secondo me in Italia al di sotto di 10.000 abitanti in quel momento non ce l'ha nessuno.